Controlli a tappeto nei giorni scorsi sul territorio gelese da parte della Polizia Amministrativa Sociale Immigrazione in collaborazione con gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato. Due le discoteche controllate, 45 le persone identificate, due le persone segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti, quattro i grammi di marijuana sequestrati e ancora cinque le contravvenzioni elevate di cui due per mancate esibizioni di licenza e tre per utilizzo di buttafuori non autorizzati e iscritti nell'elenco della prefettura, così come previsto dalla legge. Controlli che saranno estesi nei prossimi giorni anche agli altri locali della città del Golfo. Sempre gli agenti del Commissariato di Gela hanno tratto in arresto e in esecuzione di un ordine per espiazione di pena detentive regime di detenzione domiciliare emesso dalla procura del Tribunale di Gela il 31enne Baldassarre Nicosia, che dovrà scontare la pena residua di un anno, due mesi e 23 giorni di reclusione poiché condannato per i reati di lesioni e minacce commessi nel 2008 a Gela. Gli agenti hanno altresì denunciato un 38enne Tg le sue iniziali per il reato di furto aggravato. Ad incastrarlo le immagini del sistema di videosorveglianza del locale dove poco prima aveva rubato delle monete e materiale di un bar nel quartiere Macchitella.